Intanto il Partito Democratico e il centro-sinistra sono pronti. Abbiamo una piattaforma, una coalizione politica, un leader. Siamo pronti ad affrontare le elezioni anche con le primarie per i parlamentari perché vogliamo continuare sulla strada delle riforme aggiungendo al risanamento finanziario lavoro e impresa, dialogando se avremo vinto le elezioni anche con i moderati, europeisti, costituzionali e non popolisti.